Mezzo milione di persone assiste alla maratona di Boston. Tommy! Amore! Stai facendo il bravo? Certo! Qui dentro a 984! Esplosioni multiple! Ci serve aiuto! Non sei ferita, vero? No, sto bene. Ti prego, stai attento. Questo? Cappellino bianco. È lui! Confidiamo nell'aiuto dei cittadini per identificare questi due sospetti. Sai della bomba alla maratona? Sì, ho saputo. Sai chi è stato? Ce l'hai davanti. Dobbiamo trovarli prima che uccidano altre persone. Catherine, ci sono altre bombe? Questa è la guerra tra il bene e il male. Sono a Watertown! Gli daremo la caccia. Gli prenderemo. Hanno provocato la città sbagliata.